Entanglement. Ho letto che l'entanglement è un fenomeno per cui due particelle formano un sistema il cui stato quantico, in modo controintuitivo, è indipendente da una separazione spaziale delle due particelle che, di conseguenza, dimostrano il carattere non locale della realtà fisica. Perché? Commento. Perché la realtà è un tutt'uno. La telepatia, che come spiegano i maestri immateriali è il trasferimento della materia mentale, cioè del pensiero, a distanze inimmaginabili dalla ragione umana, esegue il fenomeno di entanglement. Grazie.